Ciao a tutti, sono Giuseppe Chiodi, autore, blogger e coach narrativo, il mio blog è immersività.it e benvenuti ad un altro episodio del TCS, ti consiglio una storia. Oggi vi consiglio Blue Spring, un film giapponese di Toshiaki Toyoda. Qui c'ho l'edizione di Third Window Films, che rilascia vari di questi film giapponesi. Chiaramente essendo un film di nicchia non lo troverete doppiato, ma neanche con tutta probabilità sottotitolato in italiano, lo troverete al massimo sottotitolato in inglese, come in questo caso. Questa edizione qui, oltre ad avere, diciamo, il film in sé, ha anche il, diciamo, il commento audio del regista, quindi tutto il film commentato dal regista, e in più c'è il Making of, che è anche molto interessante. Ed è una buona edizione, sia in Blu-ray sia in DVD, praticamente una doppia edizione. Di solito per questo tipo di film bisogna per forza comprarli o guardarli, insomma, illegalmente, eccetera, oppure comprare la versione Blu-ray, preferibilmente, da uno di questi, diciamo, sono dei siti e delle aziende che sono specializzate, diciamo, nel fare delle edizioni anche molto ricche di contenuti di film, di nicchia. In questo caso, Dead Widow Films, uno che uso spesso è Arrow, Arrow Video, inglese, praticamente, l'azienda, e di solito i film giapponesi di Arrow Video sono fatti molto bene, perché se sono vecchi sono restaurati, sono molto belli esteticamente, chiaramente sono dei Blu-ray, eccetera, e poi hanno varie features, diciamo, aggiuntive, come interviste e così via. In questo caso, comunque, Blue Spring è il film di cui vi parlo, che è di, come ho detto, Toshiki Toyoda, che è un regista che a me piace molto, diciamo che è un regista giapponese non molto conosciuto, è assimilabile un po' a Takashi Kitano, che pure adoro, prende molto da Kitano, ovviamente molto più giovane, ha molta meno esperienza, ed ha anche molti meno film. Un altro film che mi piace suo è Nine Souls. In questo caso, la premessa è questa. Ci sono questi ragazzi in una scuola, ed è una scuola per soli maschi, diciamo, delle scuole superiori, praticamente molto decadente, nel senso è una scuola proprio di criminali, per così dire, ok? E questi ragazzi, chiaramente, quindi sono degli scapestrati. Il film è molto low concept, nel senso che seguiamo questi ragazzi nella loro crescita, in un certo senso, perché si stanno per diplomare, chiaramente alcuni di questi si stanno per diplomare, altri semplicemente passeranno, scatteranno di anno, probabilmente qualcuno non ce la farà nemmeno a diplomarsi, eccetera, dato che comunque non studiano e così via, anche se in quella scuola, insomma, ci si può anche aspettare che vengano promossi alcuni che non fanno niente. Comunque, non c'è una premessa particolarmente interessante. Semplicemente vediamo questi ragazzi che fanno le loro bravate, in un certo senso, e li vediamo, e vediamo anche come in questa scuola ci siano tanti tipi interessanti. Per esempio abbiamo quello che chiamano il fantasma, che è un ragazzo che a scuola praticamente non fa niente, dorme solo, e poi scappa subito una volta finita la scuola, che poi sta sempre a guardare gli alberi di ciliegio, che è molto, diciamo, ha un problema di salute, quindi c'è tutta una cosa collegata a lui, oppure vediamo quest'altro ragazzo che non sa proprio che cosa farà una volta diplomato, non ha proprio idee in testa, vorrebbe solo non fare niente, oppure vorrebbe fare qualcosa ma non sa che cosa, insomma si sente proprio perso, c'è anche, che è una cosa che, diciamo, condivide con tanti altri ragazzi che vediamo nel film. In pratica il film è un film esistenzialista, fondamentalmente, perché questi ragazzi non sanno che fare della loro vita, non sanno neanche quale sia la loro identità, perché non hanno fatto niente nella loro vita, fondamentalmente, hanno solo fatto le loro bravate, si contendono in un certo senso i territori della scuola, perché sono ragazzi delinquenti, e questo è un tema ricorrente in molte produzioni giapponesi, questa cosa della scuola di criminali, in cui i criminali se ne danno di tanta ragione per ottenere il controllo, è una cosa, tra l'altro, squisitamente fumettistica, si trova in tanti manga, per esempio, come Worse, Crows, eccetera, che a me piacciono tantissimo, infatti Blue Spring è tratto dal manga. Ora, chiaramente, è una storia un po' più adulta, tra l'altro il regista è un regista abbastanza onesto ed efferato, non è uno che si fa tanti problemi, però si vede, si sente praticamente il fatto che sia tratto da un manga la storia, non solo per come sono conciati praticamente i ragazzi, ma anche proprio per come è costruita la storia in sé, e anche per i temi che vengono trattati, eccetera, è chiaramente un film sui ragazzi, però non è tanto, per quanto mi riguarda, diciamo diretto ai ragazzi, perché è un po' troppo adulto, secondo me, per essere compreso, soprattutto per la sua vena esistenzialista, e per di più c'è il taglio particolare del regista, perché Toshikito Yoda è un regista che, fa un po' di fare cose in modo un po' particolare, un po' come Chitano del resto, no, ci sono molte inquadrature fisse, vabbè, chiaramente meno di Chitano, però fa tante inquadrature particolari, tra l'altro è molto bravo alla regia, alla macchina, e per di più gli piace anche mettere un po' di filosofia nei suoi film, anche troppo per quanto mi riguarda, alcuni suoi film per me sono deludenti, proprio perché cerca di fondere troppo la, diciamo, il modo di veicolare il tema e il messaggio, e comunque l'essenza della storia attraverso le immagini, che è una cosa che Chitano fa praticamente sempre, molto più comunica per immagini che con i dialoghi, però come dicevo, Toyota fa questo ebirido in alcuni suoi film, in cui mischia le immagini con, non tanto con i dialoghi, quanto con il racconto, in un certo senso, perché alcune cose le dice, le racconta in modo troppo, per quanto mi riguarda, un po' troppo invadente rispetto alle immagini, quindi è come se le corrompesse, che è una cosa che Chitano, per esempio, è un errore che lui non commette, se un film è sulle immagini, è un film sulle immagini, come suonatine per esempio, ok? E' chiaro che ci possono essere dialoghi, ma non saranno importanti, e soprattutto il film non si metterà a dire cose, e roba del genere, con voci fuori campo, e questo è anche un errore che fa in Blue Spring, Blue Spring è un film che, diciamo, in cui le immagini la fanno da padrone, la fotografia è molto bella, la regia è fantastica, c'è un sacco di inquadrature fiche, i colori sono molto sfiziosi, perché poi, quello che mi piace di più, fondamentalmente del film, sono le ambientazioni, l'ambientazione è questa scuola, ma è una scuola un po', è strano, perché è una scuola comunque, ovviamente, incasinata, molto, diciamo, trasandata, e ci sono scritte dappertutto, proprio ovunque, ci sono scritte in inchiostro nero, ci sono sedie e cose abbandonate di qua e di là, a monnezze, eccetera, però, in fissi rotti, eccetera, però allo stesso tempo, la struttura della scuola sembra molto integra, cioè sembra quasi come se non fosse una scuola abbandonata, oppure come se fosse stata abbandonata poco tempo prima, e infatti io non so effettivamente questa scuola come l'hanno beccata, ma è perfetta, è perfetta come ambientazione, proprio perché, da un lato, non sembra davvero una scuola squallida, dall'altro, è come se tutto questo squallore, tra virgolette, fosse un ornamento, e per questo è bellissima la scuola, sono bellissime riprese esterne, sono bellissime riprese degli interni, che sono così costellati di scritte, che è diventata un'opera d'arte praticamente la scuola, e sono belle anche le riprese dall'alto, perché sul tetto della scuola poi si svolge, tra l'altro, gran parte della storia, e c'è questo panorama che è fantastico, perché oltre al campo della scuola, ci sono tanti alberi, delle conifere, adesso non ricordo, mi pare delle conifere, e dei tetti di capannoni, cose del genere, ma è una distesa un po', non dico post-apocalittica, però abbastanza alienante, ed è perfetta, è alienante da un lato, e dall'altro è un po' rassicurante, fa uno strano effetto, ma è perfetto, e veramente per me le ambientazioni sono il top, perché il livello di dettaglio che c'è, in ogni singola stanza, in ogni singola sala, in ogni singolo corridoio, e anche quanto sia, quanti contrasti ci siano, sia tra, per esempio, le parti più pulite, oppure il cemento, e le scritte, sia anche tra, diciamo, i ragazzi, e il resto della scuola, perché i ragazzi indossano chiaramente le divise, le divise che sono scure, e quindi si crea questo contrasto, chiaramente bianco-nero in un certo senso, un oscuro-chiaro, tra le pareti della scuola, l'inchiostro, e le divise dei ragazzi, e la pelle dei ragazzi, che è molto chiara, insomma, e poi gli alberi fuori, è veramente molto bello a livello estetico il film, e Toshiki Toyoda è uno che di solito fa film molto belli esteticamente, ma a parte questo, adesso mi sono perso parlando di questo, ma quello che conta da dire è che, a parte la bellezza estetica, il film è un po' libero apparentemente, perché, come ho detto, seguiamo questi ragazzi, e vediamo appunto come sono dei falliti, non sanno cosa fare, e c'è anche questa vene esistenzialista, e nichilista, perché chiaramente questi ragazzi si danno battaglia, ma poi, a un certo punto praticamente la trama è come se raccogliesse un attimo il filo, e effettivamente avanza in modo più classico e lineare, e quindi torna invece un po' a una sorta di high concept, perché una delle premesse di questa storia è che i ragazzi, per contendersi il controllo della scuola, facciano un gioco molto particolare sul tetto della scuola. Questo gioco in pratica è una prova di coraggio, perché ci si mette sulla balaustra del tetto, che è molto alto, e si lascia la ringhiera, e quindi si rischia di cadere di sotto, e si battono le mani, prima di cadere, il numero maggiore di volte possibile, si fa per esempio uno, e si batte una volta, e poi si riaffella la ringhiera, poi si continua un numero alla volta, quindi due, si batte due volte, e ci si attacca la ringhiera, tre eccetera eccetera eccetera. Ovviamente più i battiti salgono di numero, più è difficile riuscire a farli tutti, prima di cadere e quindi aggrapparsi alla ringhiera, e quindi il più coraggioso è quello che riesce a fare più battiti, è quello che ha il coraggio di fare più battiti di mani, senza chiaramente cadere e morire, e questo è un po' anche un po' il, è un po' l'hook in un certo senso della storia, anche un po' l'elemento più sfizioso a livello tecnico, perché ci sono le scene che sono molto belle dei ragazzi sul tetto, perché vediamo quei contrasti e vediamo il panorama, ma soprattutto perché li vediamo fare questo gioco, ed è realizzato molto bene perché alcune di queste riprese sembrano reali, e alcune di queste lo sono, però a un certo punto il regista ha avuto un'ottima idea, e praticamente ha trasformato il tetto della scuola, l'ha messo su dei binari, per cui è riuscito a spostarlo e a mettere una sorta di cuscino, di, come si dice, di protezione per le cadute, così i ragazzi effettivamente hanno potuto fare le scene e poi cadere, senza morire, perché cadere su questa protezione che ha il piano inferiore degli esterni della scuola, proprio perché era stato spostato il tetto, una cosa geniale, ma che è perfetta, perché le scene sembrano reali e fanno un grande effetto, devo dire, ed è molto sfizioso questo gioco, e ha sempre ovviamente fortemente, strettamente a che fare con questo tema e questa atmosfera anichilista, esistenzialista, che permea comunque la storia. Prima mi riferivo a questa cosa dei manga, c'è questo tema ricorrente perché, come dicevo, insomma, si è creata questa sottocultura nei fumetti, che probabilmente prende anche da una realtà che ormai probabilmente non c'è più, di probabilmente anni 80-90 massimo, no, forse anche prima, anche anni 70, dei delinquenti, insomma, delle scuole che appunto si contendevano il dominio delle scuole e in cui il leader, se non sbaglio, veniva chiamato il bancio, riusciva a, battendo magari i suoi avversari, riusciva a detenere il controllo della scuola, poi creava, aveva i suoi sottoposti, non c'era tutta una gerarchia criminale, tra virgolette, e quindi lo rivediamo qui, ed è interessante, ed è fatto abbastanza bene. Vediamo poi le storie di ogni personaggio, che pure sono varie e sono abbastanza interessanti, però la cosa secondo me più interessante di tutte è proprio la vicenda principale che riguarda il protagonista, interpretato da un attore che Toshikito Yoda usa praticamente in un sacco di suoi film, Ryuei Matsuda, e praticamente questo ragazzo si trova un po' a fronteggiare il suo vecchio amico nel controllo della scuola, diciamo che questa poi è il filone principale che poi conduce alla fine, una fine molto forte, tra l'altro, e il film in generale è molto forte, sia a livello visivo, proprio per quei forti contrasti, sia a livello tematico, e qui ancora si riallaccia il tema con la visuale, con l'aspetto visivo del film, e anche per questo lo consiglio vivamente, perché è un'esperienza visiva, però fortemente tematica, ed emozionante, forte, e questa secondo me è la cosa principale. Tra l'altro ogni singolo momento è aiutato da Conna Sonora, Conna Sonora, di cui molte canzoni suono del garage rock giapponese, che è un genere che io adoro, è di, diciamo, il gruppo garage blues rock, The Michelle Gun Elephant, che è un gruppo che a me piace, piace molto, e in cui il cantante, Yusuke Chiba, è il mio cantante preferito in assoluto, di sempre praticamente, il mio cantante preferito di sempre, cantante anche dei Ross, dei The Birthday, ed ha una voce pazzesca, e questa voce si sente spesso, ovviamente, durante il film, nelle conne sonore, e la musica è ancora assolutamente coerente all'atmosfera, alle sensazioni che dà il film, e al tema esistenzialista, nichilista del film, perché, al di là dei testi, è una musica molto, diciamo, grezza, proprio come giovanile, in un certo senso, perché è ribellione, l'assenso di ribellione dei ragazzi, però è una ribellione che poi sfocia nell'esistenzialismo, nel nichilismo, proprio perché è un, diciamo, è un sound grezzo, però molto distorto, che arriva poi allo spasimo, in un certo senso, con una voce rabbiosa, che esplode di Yusuke Shiba, quindi è perfetto, tra l'altro, è anche una musica, molto, con molti contrasti, proprio perché ci stanno queste, questi ritmi molto cadenzati, e allo stesso tempo, queste chitarre molto distorte, molto graffianti, graffianti, che poi però, si scontrano contro il ritmo, un po', un po' più tecnico, ok, della musica, e si crea questo contrasto, molto interessante, anche a livello musicale, a livello sonoro, che ben si addice, al contrasto, come ho detto prima, visivo, tematico, eccetera, esistenzialista, nichilista, no? È tutto molto nichilista, comunque il nichilismo pervade l'opera, infatti potrebbe anche essere un po' troppo, per alcune persone un po' sensibili, c'è anche qualche scena più movimentata, ci sono delle scene movimentate, ci sono delle scene molto belle, sia visivamente, sia non, che sanno dare ispirazione, questa storia sta qui nel TCS, nel Ti Consiglio Una Storia, proprio perché, per quanto mi riguarda, è una fonte di ispirazione assoluta, lo è visivamente, lo è tematicamente, lo è per il nichilismo, lo è per varie scene, così ispirate, e così, diciamo, immaginifiche, sono delle scene che uno non dimentica, soprattutto la scena più bella, per quanto mi riguarda, è dell'antagonista, tra virgolette, sul tetto della scuola, che rimane lì per tutta la notte, ed è una scena bellissima, in preziosità, con una sonora, molto forte, tutto molto, molto, devo dire, significativo, da questo punto di vista, il film ha un ritmo discontinuo, tecnicamente non è perfetto, neanche lontanamente, ha un ritmo discontinuo, parte bene, rallenta molto, anche perché poi c'è questa, questa, parte del film, che praticamente, non fa avanzare tanto la trama, principale, il filone principale, ma è come se si disperdesse, un po' a raggera, per seguire un po', un po' le vicende di ogni personaggio, che fine fa, che cosa gli succede, e così via, ci sono anche alcune metafore visive, eccetera, eccetera, delle analogie, che non sono male, poi ci stanno altri errorini, per esempio, come ogni personaggio, ci dica, che cosa, diciamo, che cosa gli è successo, con una voce fuori campo, che è assolutamente fuori luogo, rispetto al resto del film, invece di essere mostrato, se era necessario, che poi non è neanche necessario, quindi, si poteva fare a meno di quello, comunque, Toshikito Yoda, non è un regista perfetto, ma è un regista che, sa regalare, delle opere significative, ed emozionanti, come questo è il caso, quindi potrebbe annoiare un pochino, a metà film, però, come ho detto, si riprende nel terzo atto del film, e da una bella scossa, con anche varie scene movimentate, fino al finale, che per me è favoloso, il climax è veramente forte del film, e, diciamo, si trova in questa rubrica, ti consiglio una storia, perché, secondo me, è una storia che va vista, va vista, se vi interessa il tema giovanile, diciamo, di ribellione giovanile adolescenziale, ma in modo molto meno scontato e banale, ma anzi, molto negativo e tragico, e interessante, va visto anche a livello visivo, perché lo trovo davvero bello a livello estetico, e come, diciamo, pacchetto completo, per questa atmosfera che ha, e per questo tema, nichilista, esistenzialista, tra virgolette, che ha, e, che è difficile da dimenticare, sul quale si possono pensare tante cose, cioè, offre vari spunti, non è per niente un film di da scalico, non è un film che dà soluzioni, non è un film edificante, è proprio il contrario, è un film demolente, non un film edificante, per questo è un buon film, paradossalmente, i film edificanti sono spazzatura, la maggior parte delle volte, questo film vuole destrutturare, e, lo riesce a fare, è, è anche amaro come film, ok, e tutte queste emozioni escono fuori, soprattutto se uno ha la pazienza, di arrivare al finale, è comunque, chiaramente, difficile da reperire, c'è poi il problema, che bisogna guardarlo con i sottotitoli in inglese, se uno non capisce il giapponese, comunque, è un linguaggio molto semplice, anche il giapponese viene usato, perché fondamentalmente, è tratto da un manga, poi, sono ragazzi, non dicono cose particolari, i dialoghi non sono particolarmente importanti, ci sono solo tante esclamazioni, interiezioni, più che altro, però, ci sono i sottotitoli in inglese, se prendete un'edizione decente, come quella di Third Window Film, sono buoni sottotitoli, quindi, non dovrebbero esserci problemi, se parlate l'inglese, almeno, chiaro che il film, trattando il tema che tratta, ed essendo tratta da un manga, è anche un po' sopra le righe, ci sono delle scene un pochino surreali, un pochino sopra le righe, come il comportamento dei ragazzi, ma quando si tratta di un film di ragazzi, con dei ragazzi, soprattutto se è tratto da un manga, soprattutto se con questa ambientazione, questo contesto, che è quello della delinquenza giovanile, che si riferisce poi a quel tipo di background fumettistico, con i bancho, eccetera, eccetera, non può che essere un po' sopra le righe, come dicevo, e questo potrebbe far storcere un po' il naso a qualcuno, però, in realtà, ci si fa facilmente, diciamo, le scene non sono neanche esagerate, nella loro surrealtà, alcune scene, non sono esagerate, cioè, molte delle scene sono verosimiche, direi il 99%, sono anche verosimili, cioè, proprio quel pizzico, che ti fa pensare, chiaramente, un po' sopra le righe, questa cosa è un po' strana, un po' improbabile, un po' insolita, soprattutto quello che succede con un personaggio, con gli occhiali, però, è una cosa che uno comprende, insomma, vista la materia, vista i riferimenti, eccetera, eccetera, soprattutto se avete già, un po' di dimestichezza, con questo genere di cose, ok? Non vi farà storcere il naso, se non avete nessuna dimestichezza con queste cose, potreste forse un pochino, sto accennando, insomma, niente di che riesca a rompere la sospensione dell'incredulità, o che riesca ad annullare il contatto e il contratto, tra il film e lo spettatore, ok? Comunque, lo consiglio, ripeto, non è un capolavoro di film, non rimane nella storia del cinema, ma è un film che rimane con chi lo guarda, è un film che è in grado di dare tanta, tanta ispirazione, è un film che è in grado di far pensare, e di far provare a pelle tante cose, è un film molto bello esteticamente e visivamente, insomma, un film che per quanto mi riguarda, infatti addirittura, mi ispirò a varie scene, in una storia che scrissi tanti anni fa, per forza di cose, ispirate un po' ad alcune inquadrature, all'ambientazione, eccetera, per quanto è stimolante, e penso di aver detto abbastanza, quindi questo era il ti consiglio una storia di oggi, e ci vediamo al prossimo, ciao!